Buonasera a tutti gli ascoltatori di Shock in Calcio, benvenuti, bentornati qui su Rock and Roll Radio. Ciao Carlotta. Ciao Marta. Benvenuta. Benvenuta anche a te. Che bello è. Di che cosa parliamo questa sera? Parliamo di video e fotografie per la nostra bellissima trasmissione Shock in Calcio. Io sono Marta. Io sono Perlotta. E da 5 anni incontriamo una trasmissione che si chiama Shock in Calcio settimanalmente qui su Rock and Roll Radio. Ovviamente su Rock and Roll Radio. Adesso da un annetto nel locale di Rock and Roll. Esatto. Milano. E la trasmissione parla di libri, cultura, società. Ogni settimana abbiamo degli ospiti, abbiamo una rubrica che si occupa di attualità. In cui tutte le settimane proviamo un articolo, un argomento che ci è particolarmente piaciuto, soprattutto argomenti di cui si dibatte molto online, sui social. E quindi chiamiamo in particolar modo il giornalista che ha scritto un articolo che ci ha piaciuto e lo intervistiamo. E poi abbiamo sempre un ospite, uno scrittore qui in un ospite letterario e parliamo del libro appena uscito. Sono sempre libri che sono in libreria da poco tempo comunque. Questa è la nostra trasmissione. È un... È l'enterario di Rock. Non parliamo tantissimo di musica ma spesso viene in giro e comunque ci sono anche. Parliamo anche di eventi culturali musicali. Di eventi, di appuntamenti in giro per l'Italia, culturali musicali, quindi c'è anche quello. C'è anche la parte musical di Rock and Roll. In diretta da Rock and Roll Radio Milano. Su Rock and Roll Radio. Siamo molto Rock and Roll. di La Crolla. Siete invitati tutti qua. Ok, vengo di sicuro io. C'è da avere? Non credo purtroppo, non posso portarlo. Allora niente. 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 Ex recordera delle cari necessità di imparare Takahari e An tolla niente. H Childe di Sande di Sande